Hanno esposto tutte quante le nostre motivazioni, le nostre ragioni, io sono stato zitto per ovvi motivi Non è vero, non è vero, non è vero, si è accadigliato Vabbè, no, ho detto un minimo dispensabile, cubi, quanto basta, perché sennò mi sarei compromesso, assolutamente E niente, ora aspettiamo, ah, durante tutto quanto questo, questa sorta di spazio, no, questo dibattimento, questa rappresentazione teatrale Inizialmente erano tutti quanti senza mascherina, dopo in mancabilmente, miracolosamente, se la sono messa tutta Eravamo noi quattro senza mascherina e dieci con la mascherina, non solo, ma anche distanziati tutto e tutto Perché questo bonus è naturalmente pericoloso, chiaramente Io ero messo di lato sul banco degli imputati e siccome c'era un microfono che non funzionava, non si sa come mai Allora ho dovuto scegliere il mio posto ai vari avvocati e io non ho perso di vista nessuno di tutti quanti i dieci colleghi Gli ho guardati fissi tutti quanti negli occhi, ma nessuno di loro è riuscito a reggere lo sguardo più di qualche secondo E vabbè, mi staranno a vedere quello che decideranno, secondo me è un copione già scritto L'hanno già scritto, probabilmente, già qualche settimana fa Per cui, diciamo, la telenovela di Beautiful, nella fattispecie, come si può chiamare, OM Brutiful Va avanti e vediamo quello che porterà Vai Milani! Tanto non cambierà niente rispetto a prima, ragazzi Non cambierà assolutamente niente per quanto mi riguarda nei confronti di chi avrà bisogno Non lo possono dire per noi Loro potranno fare tutto quanto quello che vogliono Ma io, come ho più volte detto nelle pubbliche piazze, me ne frego Continuerò a fare quello che ho fatto fino ad oggi Indipendentemente da tutti quanti quelli che saranno i loro falsi provvedimenti nei confronti neri Palma, palma mettere l'anno avanti